amici sportivi a tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati apriamo il notiziario sportivo con il calcio con il campionato di serie c dopo la bella parentesi di coppa italia per la lucchese c'è la trasferta di arezzo affinché la coppa italia non sia un'isola felice ma anche il campionato torni a sorridere la lucchese archiviata la bella vittoria sulla juventus baby che tornerà al porterisa mercoledì prossimo per il recupero dell'ottava giornata i rossoneri tornano a respirare l'aria non tanto salubre del campionato la sconfitta e la brutta prestazione con la vispesaro nessuno le ha dimenticate anche perché la ferita è troppo fresca e brucia ancora ci sarebbe bisogno di un bel risultato che ben assai compagni cercheranno di conquistare sabato sera sul campo dell'arezzo di indiani giovannini sorretti da una tradizione recente assai favorevole gli uomini di gorgone ci proveranno ne è consapevole anche il 47enne tecnico rosso nero capitolo formazione che pare piuttosto delineato nello schema e negli uomini e la luce delle note assenze gorgone non riproporrà il timido 352 di cesena insisterà invece con il suo modulo preferito al città di arezzo lucchese pertanto in campo con chiorra tra i pali quirini sabbione ben assedde maria in difesa tumbarello gucchere cangianiello cerniera mediana russo e rizzo pinna supporto del centro avanti magnaghi annotazione finale sulla tifoseria della lucchese scottata e delusa dall'andamento non pare alle attese i tifosi non hanno mai fatto mancare il loro caloroso sostegno ma è chiaro che adesso toccherà la squadra rispondere presente con una prova importante è un risultato che consenta di tornare dalla città per eccellenza a vocazione orafa con qualcosa di prezioso è un sabato molto vivace per lo sport lucchese nel basket femminile le mura spring cerca la nona vittoria di uno splendido girone di andata siamo al classico giro di boa è l'undecima giornata ultima di andata del campionato di serie b di basket femminile appuntamento sabato alle 19 per il green look alle mura spring che affronterà in trasferta la baloncesto firenze la squadra lucchese si presenta sul parquet delle fiorentine forte del secondo posto in classifica con otto vittorie sulle dieci gare finora disputate mentre di successi d'altro canto le avversarie ne hanno racimolati solo due ma anche hanno una gara da recuperare le fiorentine hanno una media di 48,1 punti fatti e 58,8 subiti mentre le ragazze di coccio biaggi 65 fatti e 54 subiti top scorer delle due compagini sono la donadio con 8,3 punti gara per le fiorentine e l'ucraina cercasca con 16,4 punti gara per le lucchesi una chiave di lettura che lascerebbe intendere una partita assegnata attenzione però le due vittorie della baloncesto sono maturate entrambe in casa quindi calma e gesso ne è ben consapevole coach biaggi che ha preparato la gara con il consueto scrupolo poi queste sono le partite diciamo più difficili da giocare una squadra sicuramente che non è un ottimo momento di forma però giochiamo sul loro campo e può essere dire può diventare pericoloso dobbiamo essere bravi a trovare subito gli stimoli giusti dall'inizio e incananare la partita secondo le nostre regole sempre per il basket una vittoria una sconfitta per le giovanili del basket femminile Porcari l'under 13 sul parquet del Palasuore ha battuto il Ponte d'Era con l'eloquente punteggio di 89 a 32 prossimo impegno sabato alle 16 sull'ostico campo del Tusco Farm Livorno ci prova lotta con coraggio gioca la sua partita ma soccombe 56 82 l'under 19 superata da un'use empoli decisamente più forte il prossimo impegno per la squadra di Adele Fanucchi lunedì 11 dicembre alle 19.45 a Ponte d'Era e ci sono due impegni davvero interessanti anche per la Nottolini nella B1 e per il Versilia Pietrasanta nella B2 parliamo della pallavolo femminile scatta un trittico di partite importanti un tour de force per la Nottolini Capannori si parte sabato nella trasferta contro la libera e forti Firenze squadra esperta anche se reduce dalla prova non convincente sul campo del Santa Lucia Roma proprio per questo la coach Mary Malucchi si aspetta una compagina aggressiva che vorrà riscattarsi ma anche le bianconere dovranno esserlo anzi diciamo pure cattive durante la sosta la squadra si è allenata bene vuol dimostrare il proprio valore l'influenza ha colpito diverse giocatrici che faranno di tutto per esserci le due squadre si sono già affrontate in precampionato in un triangolare al palapiaggia che vide protagonista vincente il Castelfranco il Versilia Pietrasanta gioca in casa nella nona di B2 dopo la sconfitta contro la capolista pallavolarezzo condizionata dalle tante assenze per malattie da una preparazione martoriata dall'influenza le versiliese si sono potute allenare con più continuità ma ancora il gruppo non è disponibile al 100% per la sfida contro le umbre del fossato volley al palagreco di Seravezza coach Stefanini recupera qualche atleta un fattore importante per poter affrontare la sfida con più sicurezza il Versilia Pietrasanta si presenta alla gara come quinta forza del campionato con 15 punti mentre il fossato che ha solo 4 punti deve cercare la vittoria per uscire dalla zona play out sarà fondamentale il giusto approccio alla gara Nel tennis è un fine settimana decisivo per il Tennis Club Italia Forte De Marmi e per le due squadre maschile e femminile di rimanere in Serie 1 per le ragazze sabato l'impegno contro il Parioli per i ragazzi di Capitan Matteo Marrai che vediamo in questa foto invece il match è sempre casalingo contro il Matchball Firenze si parte dal 2 a 2 per le ragazze e dal 3 a 3 per i ragazzi per entrambi i confronti in caso di ulteriore parità si renderà necessario un doppio dispareggio in palio c'è la permanenza in Serie A1 e a proposito di Forte De Marmi ma cambiamo sport parliamo dell'Hockey i rosso-blu erano impegnati nella prima della Champions League c'è stato l'esordio in VUS Champions League dell'Hockey Forte De Marmi sulla pista del Barcelos in Portogallo dove ha perso 2 a 1 vantaggio dei padroni di casa con Viera nel primo tempo poi la squadra di casa raddoppia con Rampulla nella ripresa mentre per il rosso-blu la rete della bandiera di Tonner una partita che era difficile soprattutto perché in casa i portoghesi sfruttano bene il fattore campo ma i ragazzi di Ale e Bertolucci hanno disputato comunque una buona partita ma purtroppo hanno dovuto lasciare i tre punti in palio ai padroni di casa domenica alle 18 si torna in campionato con la gara alla Pala Forte con il Sarzana fin contemporanea sempre alla gara in Portogallo si è disputato anche Barcellona Deportivo Liceo con la vittoria dei padroni di casa per 8 a 2 sabato sera per la Coppa Italia di Serie A2 di Hockey su pista il CgC Via Reggio ospita al Palabarzacchi il Sarzana dell'ex Sergio Festa attualmente a quota 0 del girone C ed ha la possibilità di agganciare in testa della classifica la rutellistica Camaiore con 18 punti che osserva un turno di riposo importante sarà poi il 16 dicembre prossimo lo sconto diretto tra le due formazioni al Pardini Sport Center alla palestra adorando Pietri al Varignano la farma e Pumas a Via Reggio riceve il Forte dei Marmi i padroni di casa sono terzi a quota 6 mentre i rosso-blu seguono a 3 punti e con il punto sulle vicende legate all'Ocche su pista si chiude anche la pagina sportiva del TG Noi breve pausa e poi la terza ed ultima parte Grazie a tutti Grazie.